Ok, tre cose per cui sono andato oggi direttamente dal bagno Beh, numero uno, purtroppo quest'oggi è stata la mia ultima giornata di mare ma sono contento perché è stata una bella giornata e non ho ancora finito perché ora andiamo a mangiarci una pizza in spiaggia con alcuni amici numero due, questo era il motivo e infine numero tre, perché comunque sono stato davvero bene e abbiamo fatto il bagno e tutto e comunque dai, è stato bello l'ultima giornata sicuramente degna di nota, ecco e quindi, alle, a domani